nel momento in cui stava per suonare alla prima porta maigret cambiò idea e si voltò verso la che aveva già teso la mano verso il campanello dalla sua parte tu non hai sete no capo allora comincia pure io ritorno fra un attimo in realtà per fare la telefonata che gli era appena venuta in mente poteva anche entrare nella guardiola della portinaia ma preferiva non essere ascoltato e in più non gli dispiaceva bere qualcosa magari un bicchiere di vino bianco dovette percorrere un centinaio di metri per trovare un piccolo bistrò dove eccetto il padrone non c'era anima viva un bianco ordinò e subito si corresse anzi no un perno si intonava meglio col suo umore col tempo e con l'odore di quel piccolo bistrò lindo e pinto in cui pareva che non entrasse mai nessuno aspettò che lo servissero mandò giù mezzo bicchiere e solo allora si diresse verso la cabina del telefono quando si legge sui giornali il resoconto di un'inchiesta ci si immagina che la polizia proceda in linea retta sapendo fin dall'inizio dove andrà a parare sembra che i fatti si susseguono con una logica come le entrate e le uscite dei personaggi in una buona commedia di rado vengono riportati gli andirivieni inutili le ricerche estenuanti che finiscono in un vicolo cieco le informazioni prese alla cieca a destra e a manc megret non aveva potuto citare una sola indagine durante la quale a un certo punto non si fosse arenato al mattino in ufficio non aveva avuto il tempo di chiedere notizie a lucas janviere torrance a cui il giorno prima aveva affidato compiti che adesso gli apparivano superflui polizia giudiziaria vorrei parlare con lucas se non c'è mi passi janvi fu lucas a rispondere al telefono e lei capo sì innanzitutto c'è una cosa urgente da fare dovrai procurarti una fotografia di pique mal il tizio dell'istituto del genio civile non vale la pena cercare nella sua stanza non ce ne sono mi stupirebbe però se all'istituto non ci fosse almeno una foto di gruppo una di quelle che di solito vengono scattate a fine anno scolastico e forse i ragazzi della scientifica potranno tirarne fuori qualcosa raccomandagli di sbrigarsi siamo ancora in tempo per farla uscire sui giornali del pomeriggio la foto deve essere trasmessa anche a tutti i corpi di polizia per non trascurare nulla portane una copia pure all'istituto di medicina legale perché vi diano un'occhiata d'accordo capo tu hai novità ho trovato la marcella di cui le avevo parlato si chiama marcello che nella sua testa ma gre aveva già abbandonato quella pista ma non vuole dare a lucas l'impressione di aver lavorato per niente e allora lavora come correttrice di bozze alla tipografia croissant e fa il turno di notte non è lì che stampano la rumera e neanche la globe ha sentito nominare tavar ma non lo conosce di persona non ha mai incontrato masculin le hai parlato le ho offerto un caffè macchiato in rumo a martro è una donna per bene ha vissuto da sola finché non ha conosciuto fleri e se ne è innamorata lo ama ancora non gli porta rancore per averla lasciata e se un domani quello volesse ricominciare tornerebbe con lui senza rinfacciargli nulla a sentir lei è un bambinone che ha bisogno di aiuto di affetto è convinta che nonostante i suoi piccoli imbrogli da ragazzino non sarebbe mai capace di azioni davvero disoneste janvier non aveva niente da dirgli perché era rimasto impalato ad aspettare di fronte allo stabile di ruivano finché verso mezzanotte torrance non era andato a sostituirlo blanche la motte rientrata a piedi verso le 11 da sola ed è salita a casa dove la luce è rimasta accesa per una mezz'ora nessuno della rude sosse nei dintorni no solo quattro gatti che ritornavano dal cinema o dal teatro torrance aveva trascorso una notte ancora più calma per tutto il tempo che era rimasto di guardia aveva visto in rouvanou solo sette passanti la luce si è riaccesa alle sei del mattino suppongo che la signorina blanche si alzi presto per riordinare l'appartamento è uscita le otto e dieci direte in boulevard saint germain megret tornò al banco a bere il suo perno e dato che era leggero ne ordinò un altro mentre si riempiva la pipa quando rimise piede nello stabile di boulevard pasteur sentì che la pointe era arrivato al terzo appartamento e cominciò pazientemente a fare la sua parte a volte è complicato interrogare la gente a quell'ora i due uomini trovavano solo donne alle prese con le faccende domestiche il loro primo impulso era di richiudere la porta perché li scambiavano per venditori di un qualche apparecchio o per agenti delle assicurazioni alla parola polizia s'usultavano tutte allo stesso modo ascoltavano le domande con la mente altrove al tegame che avevano lasciato sul fuoco al bambino che giocava per terra all'aspirapolvere che continuava a funzionare a vuoto alcune erano imbarazzate per essere state sorprese in vestaglia e istintivamente si ravvivavano i capelli cerchi di ricordarsi di martedì mattina martedì sì per caso le è capitato di aprire la porta mettiamo tra le dieci e mezzogiorno la prima cui megressi rivolse disse che martedì non era a casa ma all'ospedale dove la sorella era stata operata la seconda una giovane con un bambino in braccio che teneva appoggiato sull'anca continuava a confondere il martedì con il mercoledì sì ero qua non esco mai la mattina e faccio la spesa nel tardo pomeriggio quando torna mio marito le è capitato di aprire la porta bisognava riportarle pian piano con una pazienza infinita all'atmosfera del venerdì mattina se avessero chiesto a bruciapelo ha visto in ascensore o per le scale un estraneo che saliva al quarto piano quelle avrebbero risposto di no in buona fede senza rifletterci su al terzo piano megret raggiunse la poa perché non aveva trovato nessuno nell'appartamento del secondo piano a sinistra gli inquilini rispecchiavano il carattere dell'edificio e dietro le loro porte si svolgeva un tran tran familiare che sembrava senza storia l'odore cambiava da un piano all'altro così come il colore della tappezzeria ma tutto era comunque espressione della stessa classe laboriosa e onesta sempre un po spaventata dalla polizia megret era alle prese con un'anziana signora dura d'orecchio che non l'aveva invitato a entrare e lo costringeva a ripetere ogni domanda intanto gli giungeva la voce di la poa che parlava nell'appartamento di fronte perché dovrei aver aperto la porta gridò la sorda e quella vecchia strega della portinaia ad accusarvi di spiare gli inquilini ma no signora nessuno l'accusa di niente e allora perché la polizia viene qui a farmi domande cerchiamo di scoprire se un uomo quale uomo un uomo che non conosciamo lo stiamo cercando che cosa cercate un uomo che cosa ha fatto mentre ancora tentava di farsi capire la porta di fronte si aprì la poa rivolse un cenno a megret per segnalargli che c'era qualcosa di nuovo e il commissario si congedò bruscamente dalla vecchia indispettita le presento la signora godry capo a suo marito lavora in una banca di boulevard des italiens hanno un figlio di cinque anni megret intravedeva il bambino attaccato alla gonna della madre la mattina le capita di mandare il piccolo in qualche negozio dei dintorni ma soltanto da questo lato del viale non lo lascia attraversare la strada da solo e tengo sempre la porta su chiusa quando è fuori così martedì ha sentito salire qualcuno sì stavo aspettando bob lì per lì ho creduto che fosse lui la maggior parte della gente prende l'ascensore ma a lui non glielo permetto ancora sarei capace assere il bambino ci sono già andato e sei stato punito insomma ho dato un'occhiata e ho visto passare sul pianerottolo un uomo che si dirigeva al quarto piano che ora erano più o meno le dieci e mezzo avevo appena messo lo stufato sul fuoco l'uomo le ha rivolto la parola no sul momento l'ho visto solo da dietro portava un soprabito beige piuttosto leggero forse un impermeabile non vi ho prestato troppo attenzione aveva le spalle larghe e il collo massiccio osservò il collo di maigre corpulento come me la donna esitò imbarazzata non proprio era più giovane sui 40 anni direi l'ho visto in faccia quando ha girato sulle scale anche lui mi ha guardato e non sembrava affatto contento che fossi là si è fermato al quarto piano sì ha suonato alla porta no è entrato nell'appartamento del ministro poi anche se ci ha messo un bel po ad aprire come se stesse provando diverse chiavi questo non so dirglielo ma come se non conoscesse la serratura l'ha visto andar via no perché ha preso l'ascensore molto tempo dopo meno di dieci minuti lei era rimasta sul pianerottolo no ma bob non era ancora rientrato e la porta era so chiusa ho sentito salire l'ascensore si è fermato al quarto piano e poi è ridisceso saprebbe descriverlo a parte la corporatura robusta è difficile aveva un colorito acceso come se fosse una buona forchetta portava gli occhiali non mi pare no no ne sono certa fumava la pipa sigarette no aspetti sono quasi sicura che fumasse un sigaro la cosa mi ha colpito perché mio cognato corrispondeva con in più il dettaglio del sigaro alla descrizione dell'uomo che aveva avvicinato pique mal nel bistrò di rouge a cobb poteva corrispondere anche a quella dello sconosciuto che si era introdotto nell'appartamento della signorina blanche in rouvano qualche minuto dopo maigre la può erano sul marciapiede dove andiamo lasciami al che poi va in rouvano e in rouv giacobe cerca di appurare se l'uomo fumava il sigaro quando il commissario entrò nel suo ufficio lucas si era già procurato la fotografia purtroppo pique mal vi compariva in secondo piano ma l'immagine era abbastanza nitida perché gli esperti della scientifica potessero tirarne fuori qualcosa si fece annunciare al direttore della polizia giudiziaria e per quasi mezz'ora lo misi al corrente dei nuovi sviluppi meglio così sospirò il capo quando me grebbe finito già sarò ancora più tranquillo quando avremo scoperto se mai lo scopriremo chi è quel tipo avevano tutti e due lo stesso sospetto e preferivano non parlarne come escludere che l'individuo sulle cui tracce si erano imbattuti per ben tre volte fosse un uomo della rude sossei maigre aveva qualche amico alla sua rete in particolare un certo catrù di cui aveva tenuto a battesimo il figlio ma esitava a rivolgersi a lui per non metterlo in una situazione imbarazzante nel caso sapesse qualcosa di lì a poco i giornali del pomeriggio avrebbero pubblicato la fotografia di pique mal non era paradossale che la persona a cui la polizia giudiziaria stava dando la caccia potesse trovarsi in quello stesso momento nelle mani della sua rete magari gli uomini della rude sossei avevano deciso di farlo sparire per un po dalla circolazione perché sapeva troppe cose o forse l'avevano portato nei loro uffici per costringerlo a cantare i giornali avrebbero scritto che la polizia giudiziaria immegrè in particolare si occupava della faccenda sarebbe stato un bello scherzo da parte dei colleghi della sua rete lasciargli mettere in moto la macchina delle indagini e poi dopo qualche ora annunciare che pique mal lo avevano preso loro è proprio convinto insistette il capo che può ansia onesto e non ne nasconda niente ci giurerei vale anche per quelli che lo circondano ho l'impressione di sì ho preso informazioni su ognuno certo non so tutto della loro vita ma le notizie raccolte mi inducono a credere che bisogna cercare altrove la lettera che le ho mostrato masculin è senz'altro coinvolto nella faccenda quella lettera ne è appunto la prova che cosa pensa di fare non so perché ma vorrei conoscerlo più da vicino anche se forse non mi servirà molto mi basta andare a pranzo al filet de soli in place de victoire dove pare che abbia stabilito il suo quartier generale stia attento non si preoccupi passò dagli uffici degli ispettori per dare istruzioni la poi era appena arrivato allora novità sui sigari è strano che sia stata una donna a notare questo particolare il padrone del bistro anche se l'uomo è rimasto nel suo locale per più di un quarto d'ora non sa dire con certezza se fumasse pipa sigaro sigarette propenderebbe per il sigaro la portinaia della signorina blanche invece è stata categorica fumava il sigaro no una sigaretta ha buttato il mozzicone sulle scale e l'ha schiacciato sotto la suola era luna quando maigret entrò nel famoso ristorante di place victoire con una lieve sensazione di disagio sapendo che da semplici funzionari non è prudente misurarsi con tipi come masculin non aveva prove contro di lui a parte un biglietto che il deputato poteva spiegare in mille modi tutti plausibili e al filet de sol masculin giocava in casa maigret era un intruso e il direttore di sala aspettò che fosse lui ad avvicinarsi senza scomodarsi ad andargli incontro c'è un tavolo libero per quante persone sono solo la maggior parte dei tavoli era occupata in sottofondo echeggiava un incessante brusio di voci accompagnato dal tintinio di forchette e bicchieri il direttore di sala si guardò intorno e gli fece strada verso un tavolo più piccolo degli altri incastrato contro il battente della porta c'erano altri tre tavoli liberi ma se il commissario gliel'avesse fatto notare probabilmente gli avrebbe risposto che erano prenotati cosa del resto abbastanza verosimile l'addetta al guardaroba si decise dopo un cenno a liberarlo del cappotto e del cappello passò un bel po di tempo prima che qualcuno andasse a prendere le sue ordinazioni perciò pote osservare con comodo la sala il ristorante era frequentato da persone di rilievo e a pranzo quasi soltanto da uomini finanzieri avvocati di grido giornalisti politici tutta gente più o meno dello stesso ambiente che si scambiava da lontano cenni di saluto qualcuno aveva riconosciuto il commissario ed era probabile che a parecchi tavoli si parlasse sotto voce di lui joseph masculin era seduto nell'angolo a destra su una panca imbottita in compagnia dell'avvocato pinard famoso quasi quanto il deputato per le sue feroci arringe c'era un terzo commensale che maigret scorgeva da dietro un uomo di una certa età con le spalle strette e i capelli grigi piuttosto radi pettinati col riporto solo quando si girò di profilo il commissario capì che era sauvegrè cognato e socio di nicò di cui aveva visto la fotografia sui giornali masculin che stava mangiando una bistecca si era già accorto della presenza di maigret e teneva lo sguardo fisso su di lui come se nella sala non ci fosse nient'altro di interessante sulle prime l'aveva scrutato con curiosità poi nei suoi occhi era balenata una scintilla di ironia e adesso sembrava aspettare divertito le mosse del commissario questi riuscì finalmente a ordinare il pranzo si fece portare una mezza bottiglia di bianco della loira e continuò a fumare la pipa a brevi boccate sostenendo lo sguardo del deputato la differenza tra i due era che maigret come sempre in circostanze del genere aveva uno sguardo del tutto vacuo dava l'impressione di fissare qualcosa di assolutamente insignificante come un muro bianco e di pensare solo ai filetti di solio lana normanna che stavano per portargli era ben lungi dal conoscere nei dettagli la storia di nicò e della sua impresa correva voce che sovgren oscuro impiegato fino a una decina d'anni prima quando la sorella aveva sposato l'imprenditore facesse parte della società solo di nome aveva un ufficio in avvenuto la republique non distante da quello di nicò un ufficio ampio e suntuoso dove sovgren passava le giornate in attesa di qualche visitatore sempre di poco conto che veniva indirizzato a lui per tenerlo impegnato se mascolen lo accettava pubblicamente come commensale doveva avere le sue buone ragioni quanto all'avvocato pinar forse era seduto con loro perché curava gli interessi di sovgren un direttore di giornale uscendo si fermò al tavolo di maigret e gli strinse la mano in piena attività gli chiese e siccome il commissario fingeva di non capire continuò non mi pare di averla mai incontrata qui accennò con lo sguardo a masculen non sapevo che la polizia giudiziaria si interessasse a questo genere di faccende picche male è stato rintracciato non ancora sempre alla ricerca del rapporto calam la domanda era stata posta in tono beffardo come se il rapporto calam esistesse solo nell'immaginario di qualcuno o come se maigret non avesse alcuna possibilità di trovarlo ce ne stiamo occupando si limitò a rispondere il commissario il giornalista fece per replicare ma poi ci ripensò e uscì rivolgendogli un cordiale cenno di saluto con la mano nel varcare la soglia rischiò di scontrarsi con un nuovo arrivato che megret probabilmente non avrebbe visto se non avesse seguito con gli occhi il suo interlocutore l'uomo infatti mentre stava per spingere la seconda porta scorse il commissario attraverso il vetro e sul suo viso si dipinse un'espressione smarrita in circostanze normali avrebbe salutato megret si conoscevano da anni e mancò poco che lo facesse lanciò un'occhiata perplessa in direzione di masculen e forse sperando che megret non avesse avuto il tempo di riconoscerlo girò sui tacchi e scomparve masculen aveva osservato dal tavolo tutta la scena benché la sua faccia da giocatore di poker non lasciasse trapelare niente che cosa era venuto a fare maurice labà al file del sol e perché aveva battuto in ritirata accorgendosi della presenza di megret labà era stato in servizio per una decina d'anni in una sezione della rude sossei e c'era stato anche un periodo sia pur breve in cui correva voce che avesse una certa influenza sul ministro poi da un giorno all'altro era giunta prima la notizia che aveva dato le dimissioni poi che non l'aveva fatto per sua libera scelta ma per evitare grane più pesanti da allora aveva continuato a bazzicare la cerchia di persone che frequentavano locali come le file del sol diversamente da altri che si erano ritrovati nella sua stessa situazione non aveva aperto un'agenzia investigativa privata non era chiaro che mestiere facesse né come si procurasse da vivere oltre alla moglie ai figli manteneva in un appartamento di rude punti un amante che aveva vent'anni meno di lui e che doveva costargli piuttosto cara megret non riuscì a gustare come meritava la sua sogliola alla normanna perché l'episodio di labà gli dava da pensare non era ovvio immaginare che la persona con la quale l'ex poliziotto aveva appuntamento al filet de sol fosse proprio masculin labà oltre a essere un individuo tra i tanti a cui si potevano assegnare incarichi più o meno puliti doveva avere ancora qualche amico alla rude sossei andando via in quel modo sperava forse che megret non avesse avuto il tempo di riconoscerlo o era stato masculin che in quel momento era fuori dalla visuale del commissario a fargli cenno di non entrare se labà fosse stato sui 40 anni se avesse avuto un fisico imponente se avesse fumato il sigaro allora megret avrebbe avuto la certezza di aver scoperto l'uomo che era andato in boulevard pasteur e in rouvano e che si era allontanato con piquemal malabà aveva appena 36 anni era corso e ne aveva tutta l'aria piccolo e magro portava scarpe col tacco per sembrare più alto e baffi scuri a virgola inoltre fumava sigarette dalla mattina alla sera come dimostravano le sue dita ingiallite dalla nicotina ciò nonostante la sua comparsa offriva uno spunto per cercare in altre direzioni e megret si rimproverò di essersi lasciato ipnotizzare dalla rude sossè labà ne aveva fatto parte ma adesso era fuori a parigi c'erano decine di ex poliziotti come lui di cui la sua rete aveva dovuto sbarazzarsi per ragioni più o meno simili megret si ripromise di procurarsene al più presto un elenco anzi fu lì per telefonare a lucas e affidargli subito l'incarico se non lo fece per quanto strano possa sembrare fu solo perché non aveva voglia di attraversare la sala sotto lo sguardo ironico di masculin